Cambia il vertice del Consorzio di Bonifica, a guidare l'ente per i prossimi 5 anni sarà Serena Stefani, come deciso con voto palese unanime dall'Assemblea del Consorzio. La giovane imprenditrice casentinese è la prima donna in Toscana ad arrivare a vertici di un ente di Bonifica, la terza in Italia. Nata 38 anni fa a Prato Vecchio, guida da quando aveva 20 anni l'Azienda Agricola dei Nonni, è stata inoltre vicepresidente provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo, è stata poi eletta consigliere comunale a Prato Vecchio e dopo il matrimonio del comune Costia è diventata vice sindaco del comune unico con deleghe all'ambiente, all'agricoltura e ai gemellaggi. Per quanto riguarda il programma ho adottato uno slogan finale per riassumere tutti i punti che ho presentato questa mattina e sono condivisione, partecipazione e apertura, apertura del consorzio verso i consorziati, quindi verso i bisogni del territorio e apertura anche verso gli enti, quindi verso i comuni, verso l'Unione dei Comuni, verso la Regione e tutti gli enti sovraordinati per poter raggiungere quelle finalità importanti che il consorzio assolutamente deve perseguire in questi cinque anni di governo, quindi da una parte la manutenzione e la salvaguardia dal rischio idrogeologico e di tutto il comprensorio e dall'altra una grossa spinta in avanti nel settore dell'irrigazione come motore di propulsione e di sviluppo del settore agricolo. Suo vice sarà Leonardo Belpiero, a lungo vicepresidente dell'Associazione Provinciale della Coldiretti di Arezzo e ricopre l'incarico di consigliere all'interno del consorzio agrario di Siena e Arezzo. Il mio è un percorso di continuità come molti amministratori di questa assemblea, quindi una continuità di chiudere quei percorsi che avevamo già intrapreso, che sono a un buon punto, l'abbiamo anche riscontrato nel fare un attimo il punto della situazione stamattina, e poi con i nuovi progetti e anche innovazioni che non sono ancora oggi definitivamente di competenza del consorzio, ma che il consorzio ha voglia di mettere in campo e l'assemblea ha dato un primo mandato in questa direzione. Terzo componente dell'ufficio di presidenza è stata eletta Ginetta Menchetti, sindaco del comune di Civitella in Valdichiana. Il lavoro degli ultimi cinque anni di questo consorzio è davvero lodevole, dobbiamo farlo conoscere meglio e di più o continuare su questa linea.